Erano stati residenti a denunciare un insolito via vai in piano centro. I carabinieri adesso sono riusciti ad individuare una vera e propria centrale di spaccio in un condominio, anche grazie al fiuto di un esperto cane antidroga. È successo a Montevarchi dove, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per gli strani giri, i carabinieri, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale, hanno organizzato uno specifico servizio volto a verificare la regolarità delle presenze in alcuni edifici. In un appartamento del centro storico sono stati così trovati circa due etti di marijuana, una ventina di grammi di eroina, oltre che 70 grammi di sostanza da taglio e circa 350 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. I militari hanno così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti due cittadini nigeriani di 45 e 27 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Per altri due invece è scattata la denuncia perché trovati in possesso di una modica quantità di marijuana per gli arrestati, infine è stato disposto il giudizio con rito direttissimo davanti al Tribunale di Arezzo.